Questa mattina sto andando verso Carpinetti, sì, e beh, oggi si va a fare il primo giro. L'unica cosa da fare è rimanere sincronizzati. E allora amici, si parte col bozzo! Unitevi anche voi a questo fantastico viaggio fra le antiche rovine del castello più amato da Matilde di Canossa, noto anche com'è la Nuova Roma. Questo è un momento unico, stiamo per entrare in un glorioso passato. Già, e chissà che queste non siano ancora le gloriose possenti mura dell'era matildica. O però, benvenuti amici, in quel che resta della dimora preferita di Matilde di Canossa. Entreremo nel vivo delle terre matildiche, tra storia e leggenda, di una vera icona del pop medievale, la Gran Contessa.